Cambiamo argomento e andiamo a visitare il quartier generale del gruppo Eurotelecom, società che dal 1994 si occupa della progettazione, produzione e vendita di apparecchiature per la ricezione televisiva e di sistemi di codifica decodifica pay tv da applicare in strutture alberghiere. Eurotelecom rappresenta nel panorama italiano una struttura d'eccellenza con un proprio laboratorio di ricerca ed uno staff di professionisti che giornalmente lavora con le più moderne tecnologie. Guardiamo un po'. Eurotelecom al suo interno opera su tre divisioni di attività, un settore dedicato interamente agli hotel e alle strutture ricettive, una divisione che si occupa degli ospedali ed una che si occupa di videocomunicazione. Negli hotel viene fornito un prodotto con tecnologia digitale terrestre che permette quindi la visione di canali interattivi e quindi di canali digitali terrestri all'interno delle camere e di film, calcio e eventi sportivi attraverso accordi che Eurotelecom ha stipulato con fornitori di primaria importanza sul panorama internazionale. Per quanto riguarda il settore degli ospedali, Eurotelecom fornisce ad ogni posto letto una postazione video e una serie di servizi aggiuntivi che permettono al paziente di oltre di poter vedere la televisione anche di poter vedere le iscrizioni dei farmaci, avere informazioni sull'ospedale e quant'altro direttamente a posto letto. Nel campo della videocomunicazione Eurotelecom propone e fornisce dei schermi da 32 a 42 pollici che possono essere messi in ambienti di notevole passaggio di persone e con un apposito software che scompone il video si possono dare una serie di informazioni a carattere generale o specifiche a una moltitudine di utenti che passano nelle vicinanze di questi schermi. La nostra offerta di PTV abbiamo fatto la scelta del digitale terrestre. Perché il digitale terrestre? Il digitale terrestre riteniamo che sia il sistema del futuro che tutti quanti in casa dovremmo avere anche per vedere i canali tradizionali, quelli normali, sia radio, sia RAI che Mediaset hanno adottato questa tecnologia. Così noi l'abbiamo utilizzata per il nostro PTV. Quindi con il semplice inserimento del decodo digitale terrestre all'interno del televisore ci consente in un unico pacchetto di mettere in onda l'interno della struttura alberghiera o vari canali principalmente i film di prima visione che noi gestiamo direttamente tramite le measure americane i film. I film gestiamo anche film vietati ai minori e tutto quel palinzesto, TV per ragazze, tutto quel palinzesto che serve all'ospite di camera dell'hotel. Inoltre con il digitale terrestre è possibile già vedere tutti quei canali digitali in onda, quali i canali sportivi che si possono vedere tramite un abbonamento con chi trasmette le partite di calcio. La nostra tecnologia è molto innovativa e con questo sistema ci consente di contenere i costi del servizio mantenendo la qualità che otteniamo anche sugli alberghi di quadro e cinque tele siamo gli IPTV perché la qualità digitale è altrettanto presente di tutti e due sistemi. Prevediamo in futuro centinaia e centinaia di canali presenti nelle nostre strutture alberghiere dei quali possono essere distribuite sia in chiaro che a pagamento. Mediaset per esempio sta lanciando un nuovo servizio di film che saranno visibili all'interno delle camere. Noi altrettanto prevediamo di inserire altri film come già facciamo adesso per cui l'offerta del decoder digitale terrestre sarà sicuramente vincente su tutte le altre tecnologie sia per la qualità sia per la felicità di uso e anche per i costi di esercizio. Grazie a tutti!